Musica Posti di lavoro sicuri, referendum della CGL, anche in Molise la raccolta firme per abolire il Jobs Act, il cordoglio del sindacato per l'ennesima strage con la morte di 5 operai a Casteldaccia in provincia di Palermo. Tre giorni a Isernia sulle malattie cardiovascolari, presentato oggi a Campobasso il simposio a cui parteciperanno 50 specialisti da tutta Italia, il fattore della prevenzione al centro dei lavori. Le fiamme gialle pattugliano anche il mare, bilancio positivo a Termoli per la sosta della Madonna di Fatima, in mare i controlli della Guardia di Finanza con motovedette e un elicottero. Il manto della Madonna, cucito dalle merlettaie, realizzato con fili d'oro dalle mani sapienti delle donne dell'Associazione di Isernia, sarà consegnato entro il 2025. Campobasso si prepara per la Pool Scudetto, il rosso-blu nel girone a tre con Carpi e Pianese, e ancora da definire il calendario delle partite, motociclismo a Toro in 120 per la quinta prova del campionato enduro. Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi da parte mia e della nostra redazione, ben trovati all'edizione delle 14 del telegiornale. Una strage è quella di Casteldaccia in provincia di Palermo con i cinque operai morti soffocati per il gas nel tombino in cui lavoravano, che riapre di fatto e ripropone in modo violento e fermo la questione della sicurezza sui posti di lavoro. Anche la CGL in Molise, che si associa ovviamente al cordoglio per le vittime, però punta il dito sui controlli e sulle norme che devono essere più stringenti ed ha avviato la raccolta firme per eliminare il job sect. Sentiamo Tonino Danese. Quanto accaduto a Guardia Regia alla Exital Cementi? Ha scosso il mondo del lavoro, un padre di famiglia ha perso la vita, un altro ricoverato per le ustioni. La procura di Campobasso indaga cinque gli indagati. Intanto, ieri, in un impianto di sollevamento delle acque reflue a Casteldaccia, in provincia di Palermo, cinque operai sono morti intossicati, un altro è gravissimo. La sicurezza sul lavoro è il tema più stringente sul quale i sindacati chiedono di intervenire con urgenza. La CGL lo ha ribadito anche il primo maggio e lo fa oggi con ancora più forza. C'è bisogno di maggiori controlli, in maniera anche abbastanza superficiale. A volte si dà la colpa ai lavoratori che sono distratti. Non funziona così. I morti di ieri ci raccontano che forse sono in corso indagini, accertamenti, non c'erano dispositivi minimi di sicurezza su un luogo di lavoro. E questo chiaramente a volte è figlio anche della paura che hanno i lavoratori, messi in una condizione di precariato. Hanno paura a denunciare. Quello che è successo anche qua in Molise qualche settimana fa ci lascia ancora sconvolti. Abbiamo avuto un morto sul lavoro, ci sono ancora persone ricoverate, stiamo in apprezzione e cerchiamo di raccogliere notizie. Noi insomma dobbiamo dare un taglio diverso a quelle che sono le azioni, anche i sindacali. Anche in Molise la CGL si sta organizzando con la raccolta firme per i quattro quesiti referendari per un lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso. Il 25 aprile, data emblematica, abbiamo lanciato un referendum che praticamente mette in discussione alcuni capisaldi che erano propri del Jobs Act sui licenziamenti e quindi per dare lavoro dignitoso, lavoro sicuro, lavoro duraturo alle persone. Il quarto referendum invece riguarda proprio la sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi sappiamo che c'è un sistema immenso di appalti e subappalti. Non può esistere uno che prende l'appalto e poi lo distribuisce. Cioè probabilmente ci sono imprese che non hanno più nemmeno lavoratori che fanno lavoro materiale ma fanno solo quelli che rispondono agli appalti. Invito senza colore politico, senza appartenenza a firmare questi referendum e provare a dare un segnale, un segnale che poi chiaramente deve determinare delle leggi che garantiscano anche la sicurezza sul lavoro. Dov'è possibile firmare questi referendum? Stiamo quasi coprendo tutti i comuni e dalla settimana prossima partiremo con i banchetti. Dalla prossima settimana faremo un calendario preciso ma intanto si può firmare presso tutte le nostre sedi e presso i rappresentanti e i referenti sindacali. A proposito di lavoro ci sono temi che riguardano proprio questo argomento in Consiglio regionale convocato per il prossimo martedì 14 maggio all'ordine del giorno tra l'altro alcune mozioni della minoranza tra le quali la salvezza, la salvaguardia del reparto di emodinamica del Veneziale ma poi la Gigafactory e la tutela dei posti di lavoro nello stabilimento Stellantis che sarà realizzato a Termoli. Parliamo di sanità. Un simposio di tre giorni dedicato alla chirurgia e alle malattie cardiovascolari in programma a Isernia. È stato presentato questa mattina a Campobasso una cinquantina. agli esperti che arriveranno da tutta Italia sentiamo il servizio di Pasquale Di Bello. Sono tra le patologie a più forte impatto sociale purtroppo con un alto tasso di decessi. Parliamo delle malattie cardiovascolari che saranno oggetto di un simposio di tre giorni che si terrà a Isernia dal 9 all'11 maggio prossimi. Insieme alle patologie si parlerà anche di chirurgia cardiovascolare di prevenzione. Uno dei responsabili scientifici dell'appuntamento che metterà a confronto oltre 50 specialisti da tutta Italia è il chirurgo cardiovascolare Luca Iorio. Un simposio che andrà a trattare tutte le patologie sia cardiologiche che inerenti alla chirurgia vascolare che come sappiamo sono le patologie più diffuse a livello mondiale. La prevenzione soprattutto per quanto riguarda le patologie cardiovascolari è la cosa più importante, la cosa fondamentale. Quindi adottare un buono stile di vita e soprattutto avere un reale controllo di quelli che sono i fattori di rischio della patologia cardiovascolare. Quindi mi riferisco soprattutto al fumo che è sicuramente una pessima abitudine al mantenimento di valori anche del colesterolo adeguati quindi una dieta. Noi sappiamo che per esempio in Molise abbiamo quasi il record nazionale come indice di obesità e sicuramente questo non favorisce quello che è l'abbassamento del rischio cardiovascolare nella popolazione molisana. Uno degli aspetti centrali del trattamento delle patologie cardiovascolari rappresentato dalla medicina territoriale un fattore sul quale la struttura commissariale ha costruito uno dei pilastri del nuovo piano operativo sanitario. È fondamentale nella gestione della cronicità perché dopo il trattamento delle patologie acute che avviene a livello ospedaliero poi c'è la fase della dimissione e il trattamento a domicilio dei pazienti. Quindi la sanità territoriale è fondamentale nella gestione di questi pazienti. Penso ai pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico da sindrome coronarica cronica quindi la gestione territoriale per ridurre l'affollamento dei pronto soccorso e degli ospedali è importante e quindi la gestione a livello territoriale con l'utilizzo anche di nuovi device quale può essere l'utilizzo della telemedicina che stiamo implementando anche nella nostra regione. Conoscenza e fiducia e questo è il titolo del simposio due aspetti sui quali pone l'accento il direttore generale dell'ASREM Giovanni Di Santo. La conoscenza e la fiducia appunto rappresentano un momento fondamentale del percorso diagnostico, terapeutico e soprattutto di prevenzione. Quindi questo simposio a cadenza biennale vede nei prossimi giorni qui l'affluenza di tanti specialisti di riverbero nazionale e internazionale tutti seduti intorno al tavolo a discutere e costruire per una migliore sanità. Noi aspettiamo questo simposio e siamo convinti che dirà e darà addito alla possibilità di nuove terapie, di nuove indicazioni ma soprattutto anche di nuove innovazioni. La pagina elettorale a Campobasso non mancano le polemiche sull'assetto scolastico e sulla destinazione temporanea di alcuni istituti i cui cantieri peraltro stanno andando avanti. Domani l'assessore comunale all'istruzione Luca Praitano ha convocato una conferenza stampa nel corso della quale si parlerà in particolare della scuola Dovidio e sull'opportunità da accogliere per il futuro di questo istituto. L'incontro è in programma alle 10.30 in Piazza della Repubblica proprio accanto all'edificio scolastico. Il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Beneditti si ha parlato delle potenzialità turistiche di Campobasso. Sentiamo Tonino Danese. Aldo De Beneditti spunta a far diventare Campobasso capoluogo di accoglienza del turismo regionale. Per il candidato sindaco del centrodestra la città ha caratteristiche e numeri per essere il principale riferimento ricettivo in Molise. Nel suo programma elettorale il tema è messo in evidenza e lo stesso De Benedittis nei suoi confronti con operatori di settore e titolari di strutture ricettive ha avuto conferma che molti turisti scelgono di soggiornare a Campobasso per poi spostarsi su tutta la regione. Campobasso ha sottolineato ancora il candidato sindaco del centrodestra è l'unico centro che oggettivamente ha i numeri considerata la significativa presenza di alberghi, bed and breakfast e case vacanza per accogliere con continuità un ampio numero di turisti ma manca ancora una visione e occorre presto uscire da questa fase pionieristica. Come amministrazione comunale ha aggiunto Aldo De Benedittis ci impegneremo a fare rete per favorire con il contributo di tutti gli attori coinvolti una crescita ben più strutturata del settore che non può certo limitarsi all'apertura di un infopoint. Secondo De Benedittis è fondamentale per un vero sviluppo promuovere circuiti e pacchetti che uniscano enogastronomia arte, sport, cultura e natura ma anche migliorare e ampliare i servizi come ad esempio creare collegamenti navetta tra Campobasso e i luoghi di interesse più gettonati del Molise. Anche sul fronte del turismo ha concluso Campobasso deve ricoprire la sua importanza e centralità. Attimi di paura questa mattina via Maiella a Venafro per un incidente tra un SUV e uno scooter ad avere la peggio il giovane che era sulla moto uno studente del posto che è stato trasportato all'ospedale veneziale di Isernia dopo i primi accertamenti le sue condizioni non sono apparse gravi sulla dinamica indagano i carabinieri. E' un bilancio più che positivo quello tracciato dalle fiamme gialle del mare la sezione che appartiene al corpo della Guardia di Finanza che ha controllato e pattugliato la costa durante il soggiorno a Termoli della Madonna di Fatima anche con motovedette e un elicottero. Sentiamo Francesco Di Giacomo. Le recenti celebrazioni connesse al pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli giunta nella cittadina adriatica il 27 aprile scorso a bordo di un elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara e ripartita il 5 maggio sullo stesso velivolo hanno consentito di rinsaldare il già significativo legame tra la Guardia di Finanza e il territorio del Basso Molise in concomitanza con la ricorrenza del 250esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo. L'evento che ha registrato una forte partecipazione dei fedeli ed è culminato con il solenne pontificale preseduto dal Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin oltre a costituire un momento particolarmente significativo per la comunità cattolica locale ha visto infatti il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli impegnato nell'assicurare in stretta sinergia con le pattuglie operanti a terra la vigilanza delle acque territoriali a conferma del ruolo strategico del corpo a presidio del mare e dello spazio aereo sovrastante contribuendo a garantire l'ordinario svolgimento delle cerimonie. La componente aeronavale della Guardia di Finanza quale unica forza di polizia del mare incaricata del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare opera in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza assicurando costantemente il presidio in ambito marittimo attività quest'ultima che assume particolare rilievo durante il periodo estivo nonché in occasione di grandi eventi esibizioni sportive culturali e manifestazioni a forte richiamo di pubblico Le fiamme gialle del mare del Molise presidiano quotidianamente le acque territoriali che lambiscono il litorale molisano e le isole Tremiti a tutela dell'economia legale e a contrasto delle attività illecite comprese quelle connesse al traffico di stupefacenti nell'ambito delle operazioni internazionali promosse dall'European Border and Coast Guard Agency Frontex Particolare attenzione inoltre viene assicurata nell'azione di contrasto al lavoro in nero alla pesca illegale e alle violazioni al codice della navigazione con annessi illeciti ambientali La flotta in dotazione alla stazione navale di Termoli composta da vedette e unità minori dall'inizio dell'anno ha già effettuato attività di vigilanza maritma e costiera lungo il litorale garantendo sorveglianza 24 ore su 24 L'attività di pattugliamento in mare ha inoltre permesso di sottoporre a controllo 54 imbarcazioni di vario genere nonché di sanzionare per circa 25.000 euro in violazioni al codice della navigazione per preservare il patrimonio ittico e biologico e salvaguardare la salute umana con numerosi interventi che si sono conclusi con il sequestro di oltre 900 kg di prodotti ittici non in regola e ulteriori 120 kg di prodotti ittici di vario genere pescati illecitamente quindi l'azione svolta dal reparto operativo aeronavale di Termoli testimonia ancora una volta l'efficacia del presidio garantito dal corpo a tutela degli interessi dello Stato dell'Unione Europea dell'economia legale e dei cittadini era la guida di un'auto senza patente non si è fermato all'alt della finanza e per questo motivo un giovane di Sernia è stato denunciato gli accertamenti hanno identificato poi il proprietario del veicolo il padre del ragazzo è stato fermato dalle fiamme gialle un resoconto e un cambiamento epocale per la comunità di Termoli come abbiamo anche già sentito dopo il pellegrinaggio Mariano ha assunto una veste di fede del tutto nuova sentiamo le valutazioni di Don Benito Giorgetta Don Benito Giorgetta il giorno successivo alla ripartenza della Madonnina di Fatima è stato un evento unico sul nostro territorio che ha coinvolto tutta la comunità della città di Termoli e soprattutto un evento che ha avvicinato anche tante persone che magari si trovavano lontane alla fede per usare un termine giornalistico direi missione compiuta la Madonna è stata richiesta perché venisse ad essere evangelizzatrice cioè riavvicinarci a Dio io ho usato l'espressione la Madonna viene per sbracciare la nostra fede perché Paolo in una delle due lettere indirizzate al suo figlio prediletto Timotio dice ravviva il dono di Dio che è in te e la Madonna è venuta a ravvivare a riaccendere a rientusiasmare a ridare gioia serenità pace sollievo e credo che dalle testimonianze che ho avuto modo di sentire quelle che mi sono state raccontate quelle che posso anche semplicemente immaginare davvero c'è stato uno scoinvolgimento ma positivo la Madonna che è madre come ogni madre quando arriva è portatrice di benessere è scontata un po' questa domanda che sto per farti ma se dovessimo fare un bilancio dal pre-arrivo Madonnina di Fatima a oggi post-Madonnina di Fatima i bilanci numerici non appartengono alla categoria divina perché per Dio uno vale come mille e mille valgono come uno perché il dato numerico è sì giornalistico statistico ma la Madonna se fosse venuta a Termoli e avesse sollevato il cuore di una sola persona avrebbe ugualmente compiuto la sua missione perché come argutamente dice Sant'Agostino in riferimento alla redenzione Sant'Agostino dice che Gesù Cristo sarebbe morto in groce anche per una sola persona questo per dire il valore inestimabile della dignità della persona umana per Dio non esistono i numeri per Dio esistono i volti le storie le persone per Dio esisto io esisti tu esistiamo noi esiste l'umanità ma non genericamente interpretata individualmente individuata non solo da sacerdote ma anche da uomo quali sono state le tue emozioni cosa hai provato era mai successo qualcosa di così fantastico e meraviglioso nella tua vita io questa mattina ho scritto una mail al Papa per ringraziarlo per il dono della congestione dell'indulgenza plenaria e soprattutto anche per il messaggio indirizzato ed unico per noi e gli ho detto con grande gioia e soddisfazione che mi sono sentito sacerdote come altre volte ma più di altre volte nella mia vita ma perché perché come tanti altri miei confratelli e li ringrazio per questo abbiamo dedicato ore 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 alle confessioni e io non mi vergogno di aver mischiato le mie lacrime con quella dei penitenti le mie di gioia di soddisfazione le loro di sollievo perché hanno trovato conforto ristoro nella certezza che la loro vita moralmente parlando è stata riportata alle origini battesimali per cui nell'innocenza nell'imbacolatezza e chi di noi non è felice non è sereno se sente che la sua vita è libera un manto invece realizzato con filo d'oro di 18 carati sarà realizzato dalle merlettaie di Isernia per la Madonna Addolorata il manto sarà consegnato entro il 2025 ed è finanziato dalle stesse artigiane è stato presentato il progetto ce ne parla in questo servizio Davide Gambardella un manto per la Madonna Addolorata interamente realizzato a tombolo e con bobine di filato con quattro capi in oro 18 carati lo donerà l'associazione merletto di Isernia all'arte nelle mani alla diocesi di Isernia Venafro lavoreranno al manufatto 55 merlettaie che si sono impegnate a spese proprie nella realizzazione del manto una nuova coltre pregiata tutta in filo d'oro acquistato nel cuore di Napoli nelle vie dei presevi dove viene costruito l'artigianato dell'arte sacra apprezzato in tutto il mondo il mantello non sostituirà quello regalato alla Vergine nel dopoguerra ma andrà a impreziosire la dote della Madonna Addolorata di Isernia l'idea è nata perché le merlettaie avevano il desiderio ardente di realizzare qualcosa che incarnasse la loro forte fede e quindi da qui l'idea di realizzare questo manto della Madonna Addolorata che comunque rappresenta il dolore ma allo stesso momento la gioia della consapevolezza della resurrezione di Gesù Cristo siccome la nostra associazione è nata in un periodo molto particolare ovvero quello del Covid è stata sempre segnata dal dolore ma proprio come l'albero della felicità è rinato dalle proprie ceneri quindi un altro manufatto molto importante è quello proprio del manto della Madonna il mantello come ha precisato il vescovo Monsignor Camillo Cibotti simboleggia giustizia perdono luce misericordia e sacralità il manufatto sarà realizzato per la tradizionale processione del venerdì santo del 2025 sarà un'arte che parlerà di Sernia nei tempi tanto più a valore questo manto perché è frutto di una donazione votiva quindi una volta si portavano le collanine e anche oggetti di valore per manifestare la propria devozione oggi ecco si può realizzare un vero dono che è quello di vestire la Madonna della propria fede Seminario domani a Venafro sul cambiamento e come le norme stanno interpretando la transizione ecologica l'incontro organizzato da Elcom distribuzione l'appuntamento a partire dalle 14 al centro commerciale La Madonnella sono previsti tre crediti formativi professionali per ingegneri e periti industriali si è parlato di vini di qualità in un evento organizzato all'hotel San Giorgio a Campobasso dalla delegazione molisana dell'organizzazione degli assaggiatori di vino con il consigliere nazionale Paolo Costantini si è parlato di storie e qualità di un'eccellenza italiana e del sud cioè il primitivo sentiamo Stefano Ricci Un viaggio dei tanti che l'organizzazione che rappresenta gli assaggiatori di vino propone durante l'anno incentrati sulle specialità italiane ospite d'onore a Campobasso insieme con il delegato nazionale dell'organizzazione Paolo Costantini il primitivo che non vive solo della sua capitale pugliese Manduria ma anzi offre una storia davvero da scoprire condividiamo questo vitigno preziosissimo con prima di tutto con gli Stati Uniti d'America perché diciamo lo Zinfandel si è scoperto essere esattamente lo stesso vitigno e poi diciamo abbiamo scoperto anche che dall'altra parte dell'Adriatico esistono diciamo dei gemelli nel senso che sia in Croazia che in in Montenegro sono dei vitigni coltivati e probabilmente l'origine del primitivo è proprio in quei territori l'ONAF presenta molte possibilità per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei vini dal semplice essere socio fino ai corsi più avanzati come ONAF promuoviamo la cultura del vino quindi la cultura del vino è imparare ad assaggiare è imparare ad assaggiare non in assoluto ma in relazione ai territori diciamo che producono vino da sempre per noi diciamo il vino fa parte del nostro DNA della nostra cultura non c'è una regione in Italia che non produca vino di qualità i corsi sono fondamentali per poter apprendere le tecniche di assaggio tecnico appunto al gioco di parole e per avvicinarsi al mondo del vino in maniera consapevole dal vino all'olio invece che è associato ad una riduzione di morte anche per tumore lo dice uno studio condotto dalla piattaforma congiunta della fondazione Umberto Veronesi Neuromed di Pozzilli sentiamo ancora Davide Gambardella Il consumo regolare di olio d'oliva importante componente della dieta mediterranea è associato ad una ridotta mortalità non solo per le malattie cardiovascolari ma anche per tumore a dirlo uno studio condotto dalla piattaforma congiunta Fondazione Umberto Veronesi e Istituto Neuromed di Pozzilli che ha analizzato i dati di oltre 20.000 partecipanti allo studio Molisani la ricerca ha analizzato i dati di uomini e donne italiani partecipanti allo studio epidemiologico seguiti per oltre 12 anni lo studio pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition ha evidenziato che il consumo quotidiano di olio d'oliva in quantità pari o superiore a 3 cucchiai da tavola è associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalità per tumore questo dato si affianca alla riduzione del 25% dei decessi dovuti a patologie cardiovascolari Maria Benedetta Donati Principal Investigator della piattaforma congiunta ha sottolineato l'importanza di ulteriori approfondimenti per comprendere i meccanismi che stanno alla base di queste associazioni l'obiettivo era comprendere l'impatto del consumo di olio d'oliva sulla mortalità per tumore e per malattie cardiovascolari i benefici del consumo di olio d'oliva sono ampiamente documentati in letteratura soprattutto per le malattie cardiovascolari afferma la ricercatrice Emilia Ruggero tuttavia aggiunge la studiosa si sa ancora poco sugli effetti dell'olio d'oliva in relazione ai tumori ecco perché abbiamo voluto indagare il ruolo di questo alimento cardine della dieta mediterranea anche in relazione alla mortalità per tumore parliamo adesso della fonderia Marinelli per un giorno scenario suggestivo di un concerto unico proposto dall'orchestra sinfonica che ha sperimentato una collaborazione proprio con le campane vediamo un concerto unico nel suo genere l'orchestra sinfonica del Molise che ormai è lanciata in un olimpo di ricercatezza musicale di livello assoluto e poi lo scenario appena illuminato dell'opificio per la fusione di campane più antico d'Italia quello della fonderia Marinelli una suggestione speciale affidata ad uno strumento unico di campane suonate dal maestro e vicepresidente dell'orchestra sinfonica Giulio Costanzo per tutti i protagonisti impossibile nascondere soddisfazione ed emozione certo e la nostra mission è quella di sperimentare nuovi generi e di abituare innanzitutto il nostro territorio all'ascolto della musica a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature che vada dalla musica classica alla musica pop alla musica contemporanea ecco a una musica sperimentale come questa il brano è un brano costruito per strumento solista e orchestra dove strumento solista è il carillon di campane e in questa occasione abbiamo aggiunto altre 18 campane cosa che è possibile fare solo nella fonderia perché sono campane che sono stanziali in fonderia quindi le abbiamo selezionate e le abbiamo rese compatibili col carillon e col brano che ho scritto già da un brano non ha ancora un anno a qualche mese insomma e appena inizia ad essere eseguiti inizia a camminare con le proprie gambe da suonare in questo luogo e suonare le campane in questo luogo il luogo dove lo strumento che stiamo suonando è nato in pratica insomma è particolarmente suggestivo sì è veramente emozionante portare della musica all'interno di un luogo d'artigianato e essendo anche la musica stessa appunto artigianato ora vi facciamo vedere una vera esplosione di luci e colori una foto scattata da Laura Venezia scrittrice e fotografa apprezzata insomma conosciuta a Campobasso è una cucciolata di due gatte randagge che hanno partorito davanti a casa su a Campobasso sono dieci gattini ve li contiamo noi naturalmente Laura non può tenerli tutti ma c'è davvero un'ampia scelta pelo lungo corto di tutti i colori e tutti bellissimi naturalmente l'appello ai nostri telespettatori è quello di toglierli dalla strada il prima possibile dare loro un futuro in una famiglia che può prendersene cura chiunque fosse interessato può come sempre mettersi in contatto con la nostra redazione e ora prima di chiudere una comunicazione elettorale dell'azienda la radio telemolise srl titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata telemolise informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nonché dei consigli circoscrizionali di 56 comuni del molise indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 e per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 23 e 24 giugno 2024 a tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata in contrada San Giovanni in Golfo a Campobasso è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati le modalità di prenotazione dei suddetti spazi le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla radiotelemorise SRL ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi è tutto grazie per essere stati con noi ci vediamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti vi lascio le previsioni del tempo grazie e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti